La comunità televisiva e cinematografica è in lutto per la scomparsa di una delle sue stelle più luminose, Andrea Evans. L'attrice, che ha brillato in molti ruoli, ma è particolarmente nota per il suo impegno nella popolare sopopera Beautiful, ci ha lasciato all'età di 66 anni, lasciando un vuoto nel cuore di molti. Originaria di Aurora, Andrea Evans ha avuto un percorso professionale di spicco. Sin dall'inizio della sua carriera, alla fine degli anni 70, Andrea ha mostrato una dedizione e un talento incommensurabile. La sua presenza scenica e la sua capacità di immedesimarsi nei personaggi l'hanno resa una delle attrici più ricercate del suo tempo. Tra il 1999 e il 2000, Andrea ha interpretato il personaggio di Tonya Moore, la madre di Amber, in ben 153 episodi di Beautiful. Questo ruolo le ha conferito una notorietà senza precedenti, facendola amare da milioni di fan in tutto il mondo. Ma non era solo Beautiful, da definire il suo talento. Ha ricevuto tre candidature ai prestigiosi premi sopopera nella categoria E miglior attrice e due come E miglior antagonista e per il suo ruolo in E una vita da vivere, dimostrando la sua versatilità come attrice. Oltre alla sua carriera, Andrea era anche una devota madre e moglie. Sposata con Steve Rodriguez, la coppia ha una figlia, e insieme hanno condiviso molti momenti felici. Purtroppo, la tragica notizia della sua scomparsa è stata accompagnata dalla rivelazione che Andrea stava combattendo contro una malattia che si è aggravata nel tempo. Anche se è triste sapere che se n'è andata a causa di questa malattia, il suo legato artistico e personale continuerà a vivere nei cuori di tutti coloro che l'hanno conosciuta e ammirata. La sua eredità nel mondo dello spettacolo rimarrà ineguagliata. Grazie a tutti.